Quali sono i due elementi che io stesso nelle visite comportamentali e non solo riscontro? Il primo è una comunicazione non efficace, cioè quando noi comunichiamo con il nostro cane e sappiamo benissimo che non lo facciamo solo verbalmente ma principalmente con il corpo, con i movimenti, con le posizioni che assumiamo, ecco quella comunicazione se non è efficace diventa fonte di stress. Se questa comunicazione è inefficace e quotidiana, capite che se noi lo iniziamo a moltiplicare per sette giorni alla settimana, per 30-31 giorni al mese e via dicendo, vuol dire che il nostro cane avrà a che fare con un gruppo in cui è entrato ormai a far parte che in realtà non è in grado di comprendere e di farsi comprendere. Chiunque di noi inserito in una classe, inserito in un gruppo, inserito in un contesto sociale, se si rende conto di non essere compreso, se si rende conto di non riuscire a comprendere ciò che gli altri dicono, inizierà a sentirsi inadeguato. E da lì, a seconda della propria personalità, sia l'essere umano che il cane, potrebbe reagire con l'evitamento, quindi inizia a isolarti, o con l'aggressività per cercare di tenere a bada tutto ciò che per lui è confuso. Quindi sicuramente quando abbiamo una comunicazione non corretta nei confronti dei nostri cani, iniziamo a compromettere la loro felicità. Il secondo elemento è quello di far subire ai nostri cani, anziché coinvolgerli. Quando noi ci imponiamo, è vero che ogni tanto potremmo considerarlo necessario, perché in quel momento sta succedendo qualcosa per cui io devo avere il controllo del mio cane, e il mio cane deve essere pronto a rispondermi. Siamo in strada, sta attraversando, si è rotto il guinzaglio, quindi in assoluto io devo avere il controllo, perché è una situazione d'emergenza. Oppure ho aperto la porta di casa, lui ha visto qualcosa fuori, si stava precipitando, lo devo poter richiamare, avere subito una risposta da parte sua. Ma al di là di queste situazioni, che in realtà si arrivano a controllare semplicemente con un buon rapporto e con un allenamento a collaborare, quando noi chiediamo al nostro cane di fare un qualche cosa, alzando la voce, imponendo a lui di subire quella nostra richiesta, in realtà vuol dire che la collaborazione non c'è. Probabilmente frutto anche del fatto che la comunicazione non è efficace. E ogni volta che un cane subisce, anziché partecipare a quella situazione, a quella interazione, stiamo ulteriormente andando a coltivare la sua infelicità. Quanti di noi vorrebbero subire le interazioni sociali da parte di amici, familiari, anche da parte del partner? Quindi da questo punto di vista dobbiamo renderci conto che comunicazione efficace e capacità di stimolare la complicità da parte del nostro cane sono due elementi preziosi per coltivare la sua felicità. Quando facciamo subire, cosa che purtroppo a volte anche alcuni addetti lavori, i miei colleghi e colleghi di Martina propongono come metodologia per gestire il cane, ecco, quando iniziamo a far subire, vuol dire che questo rapporto sicuramente non viene sviluppato nel suo potenziale, né affettivo né sociale. Per cui il cane non sarà legato a noi come potrebbe essere se noi davvero riuscissimo a lavorare su una comunicazione efficace e sul creare situazioni di collaborazione e complicità. Questi quindi sono due elementi che da subito possiamo coltivare. E se tu che sei in questo momento collegato, collegata, hai in effetti il dubbio che ogni tanto qualcosa non vada nella comunicazione e ti rendi conto che a volte devi proprio importi e far subire anziché coinvolgere il tuo cane, beh, sappi che sei in tempo per migliorare. Devi iniziare semplicemente a renderti conto se sta andando in questa direzione il rapporto che hai instaurato oppure no. Quindi nessuno di noi è partito facendo le cose in maniera eccellente. Come diceva giustamente Martina, anche noi professionisti del settore siamo continuamente in aggiornamento. Perché? Perché più andiamo avanti con gli studi, con le ricerche, più ci rendiamo conto che abbiamo magari delle informazioni da utilizzare che un tempo non erano note. In più, il cane di oggi, se andiamo bene a vedere, magari fisicamente è più facile notare che è diverso dai cani che c'erano 50 anni fa anche della stessa razza, se parliamo di razza. Ma è qui che c'è una coevoluzione. Se andiamo a vedere la sensibilità, l'intelligenza emotiva, l'intelligenza cognitiva che alcuni cani presentano oggi è nettamente superiore rispetto a quella di cani di altre generazioni. Quindi se stanno un po' cambiando loro, così come stiamo cambiando noi, ecco perché si parla di coevoluzione, è normale che ci devono essere anche dei metodi che nel tempo evolvono e cambiano. Sia per noi professionisti da proporre ai proprietari che assistiamo e ovviamente per i proprietari che devono iniziare a mettere in atto questi nuovi accorgimenti. Ecco perché all'interno, ad esempio, del videocorso punto molto su quello che è anche un approccio scientifico a quello che è un discorso di convivenza con il cane, partendo da quello che può essere un discorso di alimentazione perché come giustamente dicevi anche tu Martina, a volte trascuriamo questo aspetto. Vediamo un cane che ha delle problematiche comportamentali ma la prima cosa che facciamo è cercare di trovare la soluzione a quel problema quando in realtà quella è la manifestazione del problema. Di fondo magari c'è un'alterazione del comportamento per un alimento non adeguato a quel cane. Più delle volte se spendiamo poco difficilmente avremo una qualità elevata. E' anche vero che non sempre spendendo tanto si ha una qualità elevata. Quindi anche in questo possiamo avere a volte il supporto per esempio dei consulenti in nutrizione, dei veterinari nutrizionisti per capire se il prodotto che stiamo dando è valido oppure no. Se in più ci sono anche delle competenze nel professionista che abbiamo contattato dal punto di vista comportamentale ci dirà se va anche bene dal punto di vista psicologico per il nostro cane. Perché è così anche per noi a seconda di ciò che mangiamo possiamo avere dei feedback anche a livello comportamentale. Quando ci rendiamo conto che c'è un problema ed è questo che dobbiamo portarci a casa come secondo me elemento prezioso la prima cosa da fare non è pensare a bloccare quel comportamento indesiderato ma è a chiederci come mai lo sta presentando. esempio come mai il mio cane non risponde al richiamo? Magari perché io non sono in grado di illustrargli quali sono i vantaggi nel collaborare con me oppure non gli ho mai fatto notare che il richiamo vuol dire fare una determinata cosa perché molte volte io chiedo al cane di venire da me e poi il cane non viene vado io da lui. O semplicemente viene liberato una volta all'anno. Oppure non lo alleno. Allora ci sono tante motivazioni dalle più semplici a quelle meno semplici però se vogliamo prenderci cura della loro felicità la prima cosa da fare laddove avessero delle piccole problematiche a livello comportamentale è non cercare subito l'inibizione non cercare di imporre e subire quella che è la nostra volontà perché è vero che a volte con alcuni cani, quelli più fragili, funziona ma in altri casi quello che avremmo è un cane ancora più infelice un cane infelice potrebbe avere anche dei comportamenti peggiorativi quindi chiediamoci come mai sta avvenendo tutto ciò e soprattutto quanto noi stiamo aiutando il nostro cane a soddisfare le nostre esigenze quando prendiamo un cane è perché vogliamo soddisfare delle nostre esigenze alcune di queste sono pienamente condivisibili la voglia di avere qualcuno che ci voglia davvero bene qualcuno a cui donare il nostro affetto qualcuno con cui condividere la nostra vita quindi per compagnia ci sono tanti motivi tutti nobili e condivisibili poi ce ne sono altri che invece non lo sono ed è lì che ovviamente la situazione può ingeggere ma se io mi rendo conto che ho preso il cane per delle ragioni nobili ma qualcosa non sta funzionando mi devo semplicemente chiedere che cos'è che sta generando quel comportamento indesiderato sono io che non comunico efficacemente sono io che per esempio utilizzo termini diversi per il richiamo a volte gli dico vieni a volte gli dico qui a volte lo chiamo soltanto tra l'altro a volte se non risponde vado io da lui oppure se risponde tardivamente poi lo rimprovero allora tutto questo può generare confusione nel mio cane e magari fargli capire che quella mia richiesta non è detto che si debba soddisfare perché a volte quando si avvicina viene addirittura rimproverato magari è un cane pigro era abituato ad avere un cane super energico pronto a rispondere alle mie richieste finisco a prendere un molossoide molto più lento, molto più pigro e mi aspetto da lui chissà chi risposta tempo fa mi ha contattato un educatore cinofilo perché ha preso un American Bulli esattamente come il mio Mr. Cooper ma prima aveva un pastore olandese che come molti di voi sapranno e sicuramente anche Martina saprà sono cani particolarmente attenti alle richieste molto abili nel rispondere a tutti diciamo così i comandi e via dicendo cosa che l'American Bulli non è è all'estremo opposto quindi è un cane pigro tendenzialmente svogliato che ovviamente ha i suoi tempi per rispondere ecco questo educatore pensava che il suo cane avesse delle difficoltà di apprendimento in realtà semplicemente con lui utilizzava la metodica che andava bene per il suo pastore olandese ma non per un American Bulli quindi bisogna anche personalizzare il modo in cui portiamo avanti la relazione ok quindi le pretese che noi abbiamo nei loro confronti sono anche giustificabili ma a patto che noi diamo a loro la possibilità di rispondere alle nostre richieste e alle nostre esigenze ed è qui che a volte invece noto queste criticità puntate molto sulla comunicazione